al primo posto dei segni più fortunati del 2024 secondo l'oroscopo cinese è il segno ecco quali saranno i segni più fortunati del 2024 secondo l'oroscopo cinese allora signori per chi non lo conoscesse esiste anche l'oroscopo cinese io nei miei video non l'ho mai trattato dal punto di vista dell'oroscopo settimanale oroscopo mensile e quant'altro in quanto noi facendo parte della cultura occidentale parliamo dell'oroscopo occidentale ma l'oroscopo cinese quindi del mondo orientale ha un'importanza significativa soprattutto appunto per quella cultura un po' perché ovviamente lì in Cina ci sono delle credenze un po' diverse da quelle che abbiamo qui però anche perché poi ci sono state delle abitudini dal punto di vista culturale che in Cina hanno portato avanti proprio per questo tipo di oroscopo ovviamente in questo video non andiamo a spiegare che cosa sia l'oroscopo cinese anche perché ho fatto un video in merito a quello e vi consiglio di cercarlo ovunque voi mi state vedendo se scrivete oroscopo cinese Alessio Ballarini lo troverete ma la cosa più importante è il 2024 che quest'anno qua per l'oroscopo cinese è l'anno del dragone l'anno del dragone perché questa è già una cosa che differisce completamente in Cina l'oroscopo si fa con gli animali non si fa con i seni zodiacali c'è il topo, c'è la tigre, c'è il dragone, c'è il cavallo, il bue e chi ne ha più ne metta la cosa più bella del dragone è che caratterizza la leadership caratterizza una smania di protagonismo ma anche di prosperità il dragone infatti in Cina come ben sapete è un animale sacro, quasi sacro ci sono dei templi, ci sono delle statue ci sono delle piazze adornate con questi dragoni incisi proprio come si dice quando uno scolpisce la pietra e ci sono dei dragoni scolpiti nella pietra fondamentalmente quindi questo è un anno che per i cinesi potrebbe risultare di grande cambiamento ma lo sarà anche per noi occidentali perché seppur questa credenza non è così tanto divulgata e distribuita nel nostro paese italiano in questo caso in realtà comunque a livello energetico se una persona è interessata e appassionata di queste cose potrebbe risultare qualcosa di buono, qualcosa di positivo per cui ragazzi in questo video vado a spiegare un po' quale è il segno dello zodiaco italiano dell'oroscopo occidentale più fortunato secondo l'oroscopo cinese sulla base del fatto che ci troviamo nell'anno del dragone quindi raga vediamo perché magari una seconda chance per chi non è stato messo nella classifica dei segni più fortunati miei del 2024 magari qua ci si ritrova, non sia mai prima di iniziare con il terzo posto ci tengo a fare una premessa il fatto che saranno soltanto tre i segni sono tre perché comunque ho voluto dare un'interpretazione puramente soggettiva a questa cosa cercando delle affinità in merito al significato di quest'anno qui con i segni normali nostri quindi al terzo posto ho voluto mettere il segno dell'arriete il segno dell'arriete ragazzi si ritrova molto molto affine all'anno del dragone un po' per il fatto che per chi non avesse visto il mio video sa già che il 2024 è che sarà un segno di riaffermazione sociale a livello proprio della comunità a cui appartiene l'arriete lui vuole dare il massimo vuole evolversi vuole trasformare la sua vita in un capolavoro voglio della mia vita, voglio fare della mia vita un capolavoro una frase che si sente, si risiente da praticamente tutti i capodanni a questa parte perché le persone vogliono rinascere e quest'anno qui per l'arriete ci sarà una rinascita dal punto di vista sociale questa rinascita a livello dell'oroscopo cinese è veramente tanto descritta da come il dragone a livello proprio di impatto sociale ha nella vita dei cinesi perché proprio quando c'è l'anno del dragone i cinesi sono anche più vogliosi di lavorare sapete benissimo quanto siano degli abili lavoratori le persone della Cina quanto siano estremamente rigorosi responsabili nel portare a termine i propri compiti e di fatto infatti questa cosa qua si riverserà particolarmente per il commercio anche della Cina ma soprattutto per gli arriete in questo contesto sentiranno dal mio punto di vista proprio da questo anno del dragone cinese un fuoco dentro, una passione che li porterà a seguire non soltanto il loro voler farcela che sicuramente è un fattore importante che fa da catalizzatore, da propulsore della realizzazione del proprio io ma anche dal voler far emergere una parte della propria personalità che magari è rimasta repressa a causa di condizioni al contorno che non potevano presentarsi in quel periodo magari nel 2023 o nel 2022 perché c'erano cause di forza maggiore che glielo impedivano quindi in realtà è una riscoperta della rieta una rinascita e grazie al dragone questa rinascita potrebbe avvenire in un botto perché comunque ragazzi il dragone può essere descritto e può essere anche rappresentato in vari modi c'è il dragone sputafuoco c'è il dragone un po' più angelico mi viene da pensare ad un cartone animato che si chiama Dragon Ball in cui c'è il dragon Sharon che è un dragone tutto verde che veniva fuori solo e soltanto se venivano raccolte sette sfere di cristallo che si chiamavano le sfere del drago e una volta tirato fuori il drago potevi esprimere un desiderio o tre desideri non mi ricordo di fatto comunque nella cultura orientale il dragone ha una vitale importanza soprattutto appunto per questo genere di cose cioè il voler ottenere qualcosa un desiderio voler farcela volerlo realizzare ovviamente previa la fatica che ne converrebbe prima appunto di poter usufruire del potere del drago infatti per ricercare queste famose sette sfere di cristallo in questo cartone animato cavolo se i protagonisti dovevano farsi un buscio d'ecu in questo modo perché erano tutte sparse per il mondo stessa cosa per la liete immaginate che lui anziché le sfere del drago dovrà riassemblare i pezzi della sua vita fino a che poi non potrà realmente desiderare una stabilità asintotica fino ad arrivare al regime quindi al limite della sua vita quindi senza divergere mai più e questo secondo me lo porta ad essere uno dei più fortunati secondo l'oroscopo cinese fatemi sapere se siete d'accordo con questa mia correlazione e se vi fa piacere soprattutto che le parole che ho detto siano anche da monito per persone che magari erano rimaste un pochino offese rispetto al fatto che non fossero presenti nella classifica dei segni più fortunati però in generale per me la riete se lo meritava al secondo posto ragazzuoli miei e anche ragazzole mie c'è il segno dei pesci non me ne volete lo so che anche nella classifica dei segni più fortunati misi il segno dei pesci proprio in questa posizione ma ragazzi c'è una estremissima correlazione proprio tra le due cose il segno dei pesci io l'ho già detto sarà un anno di sfida un anno di rivalsa si tiene dentro qui un groppone un arancione che è di quelli grossi dei pompelmi rosa di quelli che proprio non riesce a far uscire nemmeno con l'imbuto scusami nemmeno con la ventosa che ti sturano come un lavandino ebbene arriverà l'anno del dragone per il pesce l'anno del dragone è come proprio anche il pesce spesso viene caratterizzato il pesce è sfumato dal punto di vista fauna dal punto di vista della fauna cioè quando andiamo a vedere un pesce se lo troviamo piccino ok è un pesciolino ma se vai a vedere quei pescioni da laguna che talvolta hanno anche quelle sembianze da dragone mostro di Loch Ness per esempio ebbene è anche questo uno dei fatti più importanti per cui ho correlato il pesce al dragone voi lo prendete per una cavolata ma in realtà in Cina l'oroscopo ha una valenza anche per le sembianze e le abitudini dell'animale se mi viene a parlare del bue ed è un segno appunto cinese il bue viene caratterizzato proprio per il fatto che è un amante del cibo proprio per il fatto che è molto forte ha una personalità difficile da abbattere è una persona che non si lascia sconfiggere ebbene proprio come l'animale il bue rappresenta questi aspetti anche tanto il dragone rappresenta la versatilità del pesce il dragone però di buono ha anche un'altra cosa quello di poter uscire dall'acqua quello di poter anche volare infatti ci sono delle leggende in cui i dragoni hanno le ali e volano e i dragoni possono fare veramente quello che gli pare piace se sono in cielo possono decidere di volare senza dar fastidio a nessuno se invece decidono di stanziarsi in una roccia dove poter sorvegliare tutto quello che sta sotto lo possono anche fare il pesce farà questo il pesce avrà una forza mentale talmente tanto elevata che se vuole fermarsi un secondo per riprendere fiato dopo tutte le salite che farà nel 2024 lo potrà fare perché tanto sarà mille passi avanti agli altri avrà preso una rincorsa per poter appunto far mangiare la polvere a tra virgolette i suoi competitors che potrà prendersi alle queste pause proprio come fanno i dragoni i dragoni che sono lì che sbuffano e che pensano a quello che dovrà fare il giorno dopo quando si sarà riposato si sarà fatto anche magari un sonnellino lì su quella vetta dove la sua vista è veramente spettacolare ebbene il pesci questo è rappresentato dal dragone quest'anno qua la cosa più bella ovviamente che al pesci ho sempre detto è che nonostante la vita lo ponga sempre di fronte a degli ostacoli che lui non riesce spesso ad aggirare per il fatto che purtroppo è una persona troppo buona e quindi se si tratta di dover fare un torto a qualcuno vuole piuttosto soffrire lui piuttosto che farlo agli altri quest'anno qui non capiterà il dragone diciamo che darà al pesci una voglia di sfida talmente elevata che non ci saranno regole cioè nel senso se un tempo il pesci era colui che diceva l'importante è partecipare non vincere questa volta invece purtroppo per voi signori me l'importante qua non è partecipare ma è vincere o perlomeno partecipare con l'intenzione di vincere per poter utilizzare magari un termine un pochino più politically correct però dal punto di vista ragazzi miei della fortuna il pesci sarà graziato da questo anno cinese infatti io ci tengo con vabbè ci tengo che cazzo me ne frega voi direte mi farebbe molto piacere però dire a tutti i pesci che mi ascoltano se ne hanno la possibilità sia economica che temporale di farselo un viaggetto in Cina e di andare anche magari non dico in una moschea a pregare non dico andare in un tempio ma a farsi una cultura anche più avvicinarsi a questo genere di situazioni un pochino più energetiche dal punto di vista dell'oroscopo cinese e perché no farsi leggere l'oroscopo cinese da un vero e proprio astrologo della Cina e secondo me vi illuminerà quest'anno qui potrebbe essere importante per il pesce anche per appunto riscoprire qualcosa per andare contro a delle scoperte a delle cose che lo portano anche a ricredere in situazioni in sensazioni di vita che non ha mai provato proprio perché non se l'è mai posto il dubbio di scoprirle e in realtà dovrebbe farlo però pesce come hai visto eri fortunato nell'oroscopo occidentale e sei fortunato anche nell'oroscopo orientale valuta un po' te come ti andrà il 2024 però signori miei al primo posto dei segni più fortunati del 2024 secondo l'oroscopo cinese è il segno del sagittario ragazzi miei il segno del sagittario secondo l'oroscopo cinese dal canto mio sarà una bomba un exploit di successo abituato al suo stile di vita da avventuriero da libertino che ha portato avanti per molti anni proprio dal 2020 più o meno dopo la fine del covid cioè dopo il covid quindi 2021 fino al 2023 il sagittario ha dato libero sfogo a quello che era la sua libertà mentale tutti i sagittari anni sono arrivati alla fine dell'anno che probabilmente si sono già hanno già iniziato ad annusare una nuova situazione di vita magari una relazione magari un amore nuovo magari un lavoro nuovo magari quello che vi pare piace comunque un qualcosa di nuovo qualunque sia sul campo ma quello che accadrà nel 2024 proprio grazie all'anno del dragone sarà un sagittario che accetterà di affrontare una sfida ma stavolta non è una sfida dal punto di vista lavorativo e né tantomeno una sfida dal punto di vista diciamo del viaggiare è una sfida che magari lui non si è mai posto nemmeno il dubbio che un giorno l'avrebbe dovuto fare proprio perché sapeva di essere lontano anni luce da questa situazione e ora vengo adunque la sfida sarà più personale introspettiva e sarà una sfida che supererà pieni voti il sagittario si prenderà un periodo di pausa dal suo essere sempre dinamico e in movimento si stabilizzerà il sagittario nel 2024 sarà graziato e baciato dalla fortuna della vita nel riuscire a stare bene con una persona e a trovare nelle abitudini un senso di pace sagittario è contro la monotonia è contro le cose che si ripetono a manovella è contro le cose sistematiche è una persona che pur di dare veramente quel sale nella vita andrebbe incontro anche a commettere errori e a commettere irresponsabilità tali da pentirsi di averle fatto ma per quest'anno non sarà così il sagittario si troverà bene con qualcuno si troverà bene nel fare le stesse cose anzi troverà il bello nel fare le stesse cose uh stavo per staccare tutto mannaggia la pupazza mi sto appoggiando il microfono ve lo lascio io questo dietro le quinte voi lo sapete che io sono sono trasparente mannaggia la pupazza eh cacca dicevo che il sagittario ecco vedi il sagittario queste cose se capitano a lui fa piacere perché una cosa in più me ne frega il microfono che va giù tanto comunque torniamo seri il sagittario è una persona che quest'anno qui andrà veramente ad abbracciare il nuovo stile di vita secondo l'anno del dragone e voi vi direte ma ragazzi ma il dragone la sfida è una sfida questa signori è una sfida ma sapete anche il dragone a livello di leggenda dell'oroscopo cinese ma anche a livello proprio dell'animale in sé per che cosa è caratterizzato per le radici il dragone è un animale fedele seppur non sia un animale esistente dal punto di vista proprio della fauna mondiale è in realtà dal punto di vista proprio leggendario un animale fedele molto legato all'uomo ritornando al discorso dei cartoni animati quindi per quanto riguarda Dragon Ball per quanto riguarda Pokemon ci sono dei Pokemon che erano a forma di drago mi viene da citare Dragonite mi viene da citare tutti i Pokemon leggendari come Lugia Articuno cioè sono per chi non sapesse cosa sono i Pokemon ragazzi io ci sono un po' cresciuto quindi li conosco molto erano Pokemon leggendari Pokemon leggendari vuol dire che erano difficili da trovare ma soprattutto una volta che li incontravi sentivi che erano Pokemon buoni cioè erano Pokemon che erano avvolti da un'avra di bontà di gentilezza ebbene questo è perché c'era un legame proprio correlato con l'essere umano e il fatto che ci sia questa correlazione l'essere umano con questi animali Dragoni leggendari dovuto al fatto che hanno anche loro delle radici che sono messe nel punto in cui le mettiamo noi cioè di fatto l'essere umano vive con i piedi per terra le sue radici sono piantate sulla terra vuoi per la forza di gravità scientificamente parlando vuoi perché siamo nati attaccati alla terra però in generale c'è questo flusso energetico tra il dragone e l'uomo e questo flusso energetico per il Sagittario avrà un'influenza avrà un'efficacia dal punto di vista proprio della stazionarietà della propria vita del trovare un appagamento una soddisfazione personale una gratificazione di ciò che si è raggiunto non più nel cambiamento ma nel ritrovamento di cose che magari davi per scontate appunto essere presenti lì ma che in realtà dovevano essere scoperte tantissimo per cui per me l'anno del dragone andrà a caratterizzare la fortuna del Sagittario in questo aspetto anche dal punto di vista lavorativo comunque ci sono delle bellissime notizie che proprio per il fatto che non si lamenterà più del fatto che magari non gli piaceva il tipo di lavoro o cosa ma andrà a scovare degli aspetti nascosti del lavoro proprio per il fatto che si metterà sempre in gioco seppur nello stesso campo e questo lo porterà secondo me ad essere soddisfatto spero per voi del Sagittario che l'oroscopo cinese prenda di più dell'oroscopo occidentale anche se l'Italia vivendo nell'occidente secondo me ha una preponderanza maggiore le stelle come influenzano l'Italia le influenzano diversamente da quelle come influenzano l'Oriente anche se signori miei sappiamo tutti che tutto il mondo è paese quindi in realtà siamo un pianeta all'interno di una galassia contenente miliardi di stelle e di ulteriori galassie all'interno dell'universo per cui signori l'effetto che può avere una stella sulla Terra come l'effetto che può avere una stella sulla Cina potrebbe essere il medesimo se non addirittura una realtà che non riusciamo a comprendere e che quindi siamo noi a doverci fra virgolette autocreare una realtà fittizia che ci possa far star bene proprio come potrebbe fare per noi l'astrologia e farci stare meglio detto ciò signori miei io sono stato fedele un pochino alla classifica dei segni fortunati che ho fatto io nell'oroscopo occidentale mantenendo il pesci dando qualche bit alla riete il sagittario è stato premiato anche per il fatto che dal punto di vista proprio della rappresentazione simbolica centauro mezzo uomo mezzo cavarro o mezza donna mezzo cavarro cavarro con la r mi raccomando mi ricorda anche spesso mi ricorda molto il dragone mi ricorda molto la figura proprio mitologica il centauro è mitologico il dragone è mitologico insomma ci sono delle correlazioni anche di questo genere il sagittario può sputare il fuoco è un segno di fuoco il dragone può sputare il fuoco insomma ci sono delle belle cose dei legami che secondo me correranno i due a questo a questo genere di simbiosi astrologica ora signori miei spero che vi sia piaciuto questo breve video se vi dovesse far piacere una piccola rubrica piccola perché non so quanto lunga possa essere poi nel fin dei conti dell'oroscopo cinese posso dimesticarmi in giro a farmi una breve cultura su quest'ultimo in termini più specifici quindi esempio Ale mi parli un pochino non del mio segno dell'oroscopo cinese perché quello andate su internet e ve lo vedete però magari mi chiedete Ale mi puoi dire gentilmente se per l'anno del dragone per il segno del esempio toro ci sono delle situazioni buone cosa dovrei fare secondo la cina potrei provare a fare qualcosa non ve lo prometto perché sicuramente ho tanto altro da fare detto ciò come sempre mi dispiace perché non era presente in questa classifica ovviamente nove persone si potranno consolare fra di loro nove segni che non sono stati citati quindi abbracci tanti saluti e godetevi i miei video che sono quelli occidentali detto ciò per chi ancora non l'avesse fatto ovviamente lì c'è il calendario zodiacale lo potete ancora acquistare vi metto qui una piccola foto così ve lo ricordate ringrazio estremamente col cuore aperto tutte le persone che a nel video che ho pubblicato l'altra volta dove parlavo un pochino di una recensione che era un pochino bruttina mi avete confortato apprezzo tanto il vostro sostegno il vostro supporto mi fate sentire cazzo mi fate sentire realizzato ma b ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che continuamente invece continuano a fare ordini sul mio sito che mi sostengono mi danno il supporto necessario a poter continuare a fare questo io ragazzi sono grato di questo ci saranno delle belle per il 2024 per il sito state veramente sintonizzati perché non smetterò mai di crescere e non smetterò mai di fare errori per cui ragazzi miei dagli errori si impara voi mi insegnate anche come si cresce ed è per questo motivo che probabilmente io non smetterò mai di farne di errori perché voi siete la mia carica per continuare ad imparare da questi ciao